Ciao a tutti ragazzi sono Sparve e oggi siamo su Alien Isolation Allora Bella canzoncina Allora perchè sono su Alien Isolation? Perchè semplicemente voglio giocarci Però raga non voglio fare la storia Voglio solo fare diciamo la modalità sopravvivenza Per vedere quanto tempo più o meno resisto Ehm Allora Si ok L'ho preso tipo Due giorni fa E si comunque non ci ho mai giocato Quindi io sono contentissimo di andarlo a giocare Perchè veramente Ok Chi mi conosce da tempo sa Che Alien Isolation è un gioco che mi piace tanto E quindi sono contentissimo Raga di andare a giocare Alien Isolation Cioè no Dovrebbe essere una figata assurda Ok Amanda Il piano è interrato Io già mi sto cagando sotto Oh mio dio Scappa Obiettivo aggiornato scappa dall'area Scappa dall'area Me ne vado? Allora Ho un lanciafiamme Che figata Raccogli 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 Quanta roba Cioè Quanta roba ho preso Ma se tipo faccio così Che succede? Io voglio capire come faccio a fermare l'Alien con Sto fiammiferino Ehm Raga Cosa c'è qua? Niente posso Mi fai andare Boom Boom Raccogli due Baggio dell'equipaggio Ma fammi andare di qua no? Che c'è di qua raga? No raga allora c'è qualcosa Tieni premuto eh? Per nasconderti Come faccio a nascondermi là dentro? È grande quanto Un puffo quel coso Usa pulsante Oh Finalmente Dai che facciamo Facciamo un po' di casino raga Oh 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 L'Alien Ah 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 Che Che cazzo è successo raga? Oh Allora ragazzi spero che l'Alien mi so C'era l'Alien Pensavo che mi stesse rincorrendo Beh all'improvviso si è fermato Ok Possiamo andare Beh all'improvviso Boom Boom Allora deve Come mi faccio Ad abbassare Innanzitutto Raga Se viene l'Alien Lo incendio praticamente Raccogli i pezzi Oh Aiuto Dov'è? Dov'è? Eccolo 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 Buongiorno Buongiorno Fai schifo Lava di denti Pezzo di merda Ricomincia la partita Mi sto cagando troppo sotto Raga non è possibile Allora Vai di qua Raga non c'è un posto dove Usa Usa Oh Da dove è uscito? Da dentro Ma che cazzo ci fai là dentro? No Era l'ercondotto Mi hanno mentito Mi hanno detto che si poteva usare Invece Era nel condotto Non so se conoscete Parliamo di videogiochi Ma loro tipo Questa modalità L'hanno giocata Con l'Oculus Cioè Ci rendiamo punto Mica trovo un'altra sorpresa qua Ah no Ok Alien era là dentro Ehm Tipo Ok lo sento Tipo adesso dove Dove vado? Mi fido? Sto per durare un minuto Raga Record Qui che c'è? Oh Porca puttana Si è bellissimo Io non ho visto niente Ok Ciao zio Vedo che si è messo bene Pezzi di metallo? Ok Vieni Vieni Raga Vattene 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 Ma che cazzo? Ma come ti ferma? Oh Non ditemi che l'ha visto Quese Perché non Non mi ha visto Non mi ha visto Dai raga Ma secondo voi mi ha visto Ma Ma che cosa? Non mi ha visto Vero? Ma che cazzo Ma quanto è figo Raga Incontro Ravvicinato con Alien Lol Che è salito nel condotto Raga Perde la navice Perché si è fatto tutto Bu Alien Quante volte ti ho detto Che devi pagare le bollette Usa Nica c'è Alien Vero Questo mi prende dal condotto Raga Mi metto al centro Dai ho capito Che cazzo Oh Ma cosa fa Allora raga Non so come faccia A sapere Ad attivare il radar Per vedere dove Alien Cos'è? Si Spazio No era spazio Ma davvero Ma pensavo che spazio Era il salto Allora Questo serve praticamente A vedere dove è Alien Perché non funziona Mi stia dicendo Che non c'è Alien E di là Potrei andare nel condotto Raga Usa Ok di là Pensavo fosse dietro di me Abbiamo capito Che se sto Troppo tempo nel condotto Mi prende Comunque devo dire una cosa Ovvero Ho visto un condotto Raga Raga Ho visto un condotto Dall'altra parte Ma ho visto anche Un brutto essere E se gentilmente Se ne va Devo andare in quel condotto Lo vedi Alien? Lo vedi? No tu non lo devi vedere Te ne devi andare Raga Mi sa che mi ha visto E non se ne vuole andare di più Magari faccio così No Non se ne va Sta ancora qua Ma ragazzi Ma è una cosa Che cazzo è successo? Da quando All'improvviso Apre i condotti? Oddio che corsa Oh mio dio Ce l'ho fatta Usa Non ci credo Non ci credo Su Cazzo Cazzo Ah Aiuto Aiuto Può entrare nei condotti Può entrare nei condotti Davvero Ma stiamo Stiamo facendo davvero Raga Qui Se viene Lontano Beh usa 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 No 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 Ma si Secondo me si nasconde Raga c'è una scatola Alla vicino Secondo me si mette sotto Sono sicurissimo Ok forse era meglio Non farla La corsa Era meglio non farla Usa 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 Sì 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 Dove devo andare Dove devo andare raga C'è qualcosa di qua Porca puttana Porca puttana Non provare a seminare Asseminare l'alieno Non ci riuscirai Qualcosa mi dice di sì Guarda Cioè quindi finché non faccio Quello che mi sa Ci sono C'erano delle C'erano Delle sigarette Poi se le fumate Tutta la tizia Vieni sedia Siccome Ellen è più forte di me Me la prenderò Conte Povera merendina Minchia Accogli pezzi di metallo Ok C'è qualcosa Mi sa di no Ok Basta Basta Aspetta Ultima botta C'è un condotto di qua Non l'ho visto raga Vabbè dai Andiamo di qua Devo dire la verità Che questa modalità Raga È difficilissima Di qua Per dove si va Ok no L'alien è vicinissimo Non voglio uscire Oh 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 Aiuto Fermati Cazzo Mi ha lasciato No Tirali un pugno Uno dei primi consigli Che ti dà il gioco È quello di non rimanere Nascosto per troppo tempo Altrimenti L'alien Praticamente Viene e ti fa il culo Cazzo Cazzo Posso Nasconditi Non ci credo Sti armadetti Grandi così Sembrano funzionare Manca Ci manca Solo che apri l'armadio Mi è premuto Perché non mi sto zitto Tieni premuto È per nasconderti Secondo me a questo gioco Ci ha giocato Francesco Sole Perché vedo un post-it Un po' disegnato Cos'era per trattenermi il respiro Tipo era Premi Tuo per Trattenerti il respiro Devo trattenermi il respiro Fra poco Ne sono sicuro Sì Devo trattenere il respiro Tra poco Ne sono sicuro Devo trattenere il respiro Fra 3 2 1 No Non devo trattenere Niente Ma che cazzo Ma Raga basta Ultimo tentativo Altrimenti Non ce la faccio più Raga Sto da Precisamente 40 minuti Raga Non l'ho visto Fermo 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 Tratteniamo il respiro TD 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 Sto premendo TD Perché non Ho trattenuto il respiro Eh 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 Dai No Non venire Ti prego Non venire Io spero che vi sia piaciuto Questo video Non lo continuo Se non Finchè non arriva Ma 50 mi piace Raga Qualcosa di veramente Assurdo Raga Vabbè Noi ci vediamo al prossimo video Raga 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 Ciao ragazzi